esistono due storici che si interrogano sulle origini e le cause della riforma si chiamano de l'humo e fevere pur partendo da alcuni dati comuni la lettura e l'interpretazione adottata da questi due autori diverge l'uno e l'altro partono dal presupposto teorico da due presupposti beh uno storico tutti e due sia storici che teorici non saprei altrimenti come definirli allora uno la riforma non parte in germania bensì in francia in quanto le fevere d'étape spero si pronunci così già nel 1512 ispirandosi ad un cristianesimo paolino e senza mai comunque distaccarsi dalla chiesa cattolico romana in qualche modo elabora alcune tesi nuove ardite quindi già si sposta diciamo la geografia di quella che è la riforma l'altro presupposto è quello che non siano gli abusi della chiesa cattolica romana cioè il libertinaggio di religiosi e religiose l'eccesso di sfarzo di roma l'eccesso di potere o comunque l'eccesso di sfarzo degli alti prelati in generale l'eccesso di potere e la vendita delle indulgenze non sono le cause della riforma altro tema ancora sul quale concordano è che comunque era in corso una laicizzazione della società un crescente individualismo un essere umano messo al centro tuttavia del humo parla di un processo quindi siamo all'interno di un tempo lungo fevere parla di un evento di rottura quindi è più centrato sull'istante sul tempo breve altra differenza del humo ha uno sguardo religioso cioè cerca di assumere il punto di vista dei credenti fevere ha uno sguardo diciamo laico ebbene secondo del humo la riforma anzi le riforme tutte quante investendo quella cattolica sono la risposta a un processo che aveva investito gli esseri umani occidentali dell'europa occidentale già dal 1300 poiché la lettura della salvezza passa da una lettura assolutamente comunitaria a una lettura individuale quindi la salvezza come esperienza individuale e non collettiva gli interrogativi sulla salvezza stessa diventano sempre più pregnanti e angosciosi diciamo si possono simbolizzare in quello che è stato l'evento che ha fatto da spartiacque nella nella vita di lutero cioè il fulmine e se morissi in un momento in cui i miei conti con nostro signore non sono in pari la chiesa cattolica predicava l'aderenza al sacramento della riconciliazione e dell'eucaristia e via via facendo leva sull'ignoranza di alcuni strati della popolazione anche sulla vendita delle indulgenze quindi la possibilità facendo delle offerte di procacciarsi chiedo scusa di procacciarsi la salvezza in un caso e nell'altro quindi l'aderenza ai sacramenti le offerte elargite alla chiesa il dubbio permaneva sarò salva sarò salvo evidentemente era un dubbio c'era una sorta di tarlo sempre più angosciante al quale finalmente lutero risponde con la giustificazione per fede l'essere umano non potrà mai procacciarsi la salvezza con qualsiasi voglia merito le buone opere per quanto vadano compiute non hanno alcun valore meno che meno il valore di conquistare la salvezza ci salviamo soltanto per grazia di dio per i meriti conseguiti da cristo attraverso il suo sacrificio da qui la giustificazione per fede quindi la salvezza per sola grazia diverso è il rapporto predicato con le scritture è un rapporto personale individuale che si iscrive in un più generale concetto di essere sacerdoti o io sono una donna sacerdotesse di se stesse tra l'altro mi ritaglio questa questo inciso che non ho trovato nei libri di storia né mi è stato trasmesso da dal mio insegnante storia però la dignità sacerdotale anzi la dignità di regine profetesse e sacerdotesse questa triplice dignità ci deriva dal battesimo quindi dovremmo probabilmente tenerla più in conto però qui apro e chiudo la mia la mia polemica da cattolica un po eterodossa forse allora il rapporto con la scrittura quindi è necessariamente individuale personale e dio è veramente presente nella scrittura che è un modo per riconoscere la rivelazione per conoscere la rivelazione e viceversa la chiesa cattolica ora come allora ha sempre predicato la scrittura giusta apposta alla tradizione la chiesa cattolica non accetta il solo esame personale nelle scritture ma mi viene da dire impone il suo magistero nell'interpretazione delle scritture stesse quindi fin qui siamo a delumo perciò una visione in un'ottica di una lettura in un'ottica di fede viceversa fevre sostiene che la riforma è frutto della modifica dei valori della società e che la società stessa richiedeva una forma di religiosità aderente ai suoi bisogni e quindi per esempio un individualismo che cambia l'approccio al lavoro che diventa un approccio sia edonistico che anche edonistico cioè da una parte chi produce ha diritto di godere del frutto del proprio lavoro ma dall'altra è chiamato a serietà e correttezza in più un dio che sia più uomo più vicino agli esseri umani e questo lo leggiamo anche per esempio nelle devozioni all'epoca tributate al cristo sofferente sanguinante al cristo della passione